bentornati su narrazioni senza importanza a questo giro non abbiamo l'audio diciamo dedicato agli errori di lettura perché questa volta confesso di non averli raccolti mi dispiace so che spesso sono graditi ai miei fan più assidui però ho deciso comunque di fare un piccolo diciamo estratto un extra anzi perché nella mia edizione di poirò a styles court a termine libro c'è una piccola appendice proprio di agatha christie con una lettera scritta da lei e ho pensato che poteva essere una cosa carina visto che comunque parliamo del suo primo romanzo e quindi insomma un po di un dell'inizio di un percorso di una storia che sarà indissolubile tra il giallo e agatha christie ho pensato che poteva essere un'idea simpatica riportarvela leggere vela e fare due chiacchiere insieme a proposito di poirò a styles court insomma un po come abbiamo anche detto alla fine dei vari audio dei vari capitoli ci sono sicuramente in questa prima primo esperimento molti riferimenti al più noto sherlock holmes alla scrittura di arthur conan doyle e sicuramente agatha christie ancora debitrice di un certo tipo di letteratura di stile però già notiamo insomma un po una sua caratteristica no nell'amare anzitutto la moltitudine di personaggi che sono sempre presenti nei suoi libri nel mettere tanti indizi contrastanti tanti riferimenti a trame sotto trame che sembrano incastrarsi le une con le altre poi in realtà magari seguono percorsi a sé stanti proprio per portare un po al lettore fuori strada e anche questo grande amore per i veleni che non è casuale perché come abbiamo detto la stessa christie lavora la ha lavorato durante la guerra prima guerra mondiale in un dispensario medico e quindi era un argomento che conosceva decisamente bene credo infatti che questo primo libro lei peschi molto anche non soltanto ovviamente dalla letteratura di genere già conosciuta ma anche molto dalle sue esperienze personali che in un certo senso si ripresenteranno anche di frequente perché poi quando sposerà più avanti un archeologo l'elemento diciamo storico archeologico nei suoi libri nei suoi racconti sarà molto presente insomma spero di avervi fatto buona compagnia con il primo romanzo di agatha christie spero che sia stata una lettura piacevole è stato divertente per me leggerlo anche perché l'ho letto insieme a voi per la prima volta non l'avevo mai letto per cui è stato anche divertente insomma scoprirlo con voi e raccogliere insieme a voi tutti gli elementi del del mistero ovviamente come molti di voi avevo già visto innumerevoli volte la riproposizione fatta da david souche negli sceneggiati inglesi che vi consiglio perché tra l'altro se non mi ricordo male è piuttosto fedele al libro quindi insomma se vi capiterà di non se non l'avete ancora visto insomma ve lo ve lo consiglio io spero in futuro di tornare di nuovo con agatha christie mi è già stata fatta una richiesta non l'ho schivata l'ho vista perfettamente perché come molti di voi sapranno a settembre uscirà il terzo film di kenneth branag dedicato al nostro amato poirò come sapete io non ho grande stima di queste sue riproposizioni se volete avere qualche informazione in più vi consiglio di recuperare il mio video recensione ad assassino sul nilo in cui insomma credo di dare sfogo ai pensieri di molti appassionati come me e quindi visto che appunto uscirà questo terzo libro tratto dalla strage degli innocenti o halloween party nella versione inglese se non ricordo male spero magari più avanti è proprio proprio di leggerlo e quindi eventualmente anche di fare una recensione confronto con il libro se con il film nel caso in cui vi possa interessare ora vi saluto vi ringrazio come sempre di essere stati in mia compagnia leggerò questa lettera di agatha christie con voi e quindi la farò così abbraccio non ci saranno come dire grandi elaborazioni della della lettura e spero che vi piaccia veleni e detective stories durante la scorsa guerra nel 1916 ho lavorato nel dispensario del red cross hospital di torquay e mentre lavoravo lì ho scritto il mio primo romanzo puro a styles court è strano ritrovarsi dopo 25 anni a fare lo stesso lavoro scoprendo ahimè che si è molto più lenti molto meno sicuri molto più preoccupati di commettere errori adesso le file e file di preparati confondono e sconcertano ripeti la stessa domanda più e più volte il camice bianco non ti va neanche più bene e con disagio ritorna in mente il disprezzo con cui 25 anni fa consideravi questi vecchi tromboni che vengono qui e provano a fare qualcosa ma sono troppo lenti ahimè adesso il vecchio trombone sono io il tempo ha avuto la sua vendetta era durante le ore di calma al dispensario nel 1916 che mi venne l'idea di scrivere un giallo stimolata da ciò che mi circondava la vicinanza dell'armadietto dei veleni dell'etra farmase scusatemi questo termine non riesco a leggere ma il termine è un libro medico di martindale e di altri libri sui medicamenti e sui dosaggi che avevo recentemente letto con devota attenzione l'unica difficoltà che ho trovato è stata la qualità imbarazzante di materiale tra cui scegliere la vittima era già stata decisa l'avevo ben chiara in mente un'anziana signora orgogliosa della propria ricchezza circondata da parenti avidi che aspettavano solo la sua morte tra di loro avevo scelto anche l'assassino rimaneva soltanto da determinare come si sarebbero sbarazzati di lei alla fine ho trovato l'ispirazione in uno dei manuali sull'arte del dosaggio nello stesso libro a proposito c'era una frase ingenua e rivelatrice diceva più o meno così se non ricordo male ma i farmacisti migliori non respirano sulle pillole perché potrebbe facilitarne la manomissione da quella volta ho sempre avuto una netta preferenza per le pillole prodotte industrialmente a poco a poco nei momenti di cui il libro si è scritto e riscritto da solo e infine dopo le solite vicissitudini rifiuti da parte di due editori la perdita del manoscritto da parte di un altro critiche scoraggianti quasi due anni dopo sono stata convocata nell'ufficio di un editore così sono state poste le fondamenta di quella che posso chiamare la mia carriera criminale da allora il sangue il mio tratto distintivo sangue e cadaveri sangue versato nelle biblioteche sui treni sui campi da golf cadaveri trovati sugli aeroplani su battaglia vapore sul nilo sotterrati nei bunker o sdraiati i proni sulle spiagge cadaveri tramortiti colpiti da pallotto le accoltellati strangolati o avvelenati ovviamente non si può ricorrere sempre al veleno ma sono così felice quando capita le armi da fuoco mi rendono profondamente nervosa ne so veramente poco a riguardo e cerco sempre di evitare di entrare troppo nei dettagli quando si tratta di veleno invece mi sento molto più a mio agio almeno abbastanza cognizione per assicurarmi che anche se non è probabile che il decesso accada nelle circostanze descritte nessuno possa dire con sicurezza che non può accadere tra l'altro né dottori né farmacisti si sono mai messi d'accordo su quello che potrebbe essere letale uno dice allegramente o sì questo farà al caso suo ne sono certo mentre un altro obietta non pensi nemmeno per un minuto che questo possa fare al caso suo quindi tentativi ed errori sono da escludere trovare sostanze idonee nell'uso romanzesco non è semplice come si potrebbe pensare qualsiasi cosa davvero rara e ricerché di solito è da evitare perché essendo di difficile reperimento ristringe troppo il campo dei possibili sospettati quindi l'arsenico nell'onniprosente diserbante e il cianuro per la conveniente vespa saranno sempre i preferiti degli scrittori tuttavia ho avuto la mia dose di divertimento con strecnina nicotina morfina fosforo e giusto un pizzico di enmetil cc cicloese odio questo è un termine che non riesco a leggervi adesso e sì perché è un nome che suona così bene ci sono anche delle limitazioni per i veleni che riguardano il buon gusto il lettore ride con complicità mentre la vittima diventa viola in volto esala qualche sussulto strozzato e scivola esamine esanime giù dalla sedia ma si sentirebbe piuttosto disgustato a leggere un resoconto realistico di vomito ed evacuazioni i fatti della morte devono essere delicatamente mascherati la cicuta dava una morte dignitosa ai corruttori dello stato così definiti dai greci ci vuole una mentalità fascista per pensare all'olio di ricino rimane il fatto che il cliché supremo del giallo è il veleno che permette alla vittima di esalare una frase inutilmente criptica prima di ispirare e ora mentre aspetto l'arrivo del prossimo paziente dell'ambulatorio guardo sugli scaffali e scelgo il veleno per il nuovo libro cosa piacerebbe al mio vecchio amico Hercule Poirot londra 1941 Agatha Christie e con questa divertentissima e assolutamente brillante lettera di Agatha Christie io vi saluto vi aspetto per il prossimo libro e come sempre ci ritroviamo qui su narrazioni senza importanza alla prossima